Ciao a tutti, io sono Lorella, benvenuti nel mio canale. Uso The Sims per divertimento e per la crescita personale. Infatti si affrontano temi piuttosto sensibili. Oggi siamo sempre con i componenti della famiglia Camp, con le gemelline, esattamente, Lilibet, quella col cappello, e Gabri, la biondina. Lilibet sta ufficialmente con Alex, mentre Gabri si frequenta con Nicolas, quel ragazzo con la maglietta blu. Oggi sarà una giornata particolare, perché accadrà qualcosa di davvero romantico, ma un po' sconvolgente. Ma vediamo che cosa succede. Buona visione. Dunque, loro sono al bar e hanno deciso di prendersi qualcosa da bere. E possono prendere anche bevande a prezzo scontato, che fortuna. Ecco, i maschietti già sono entrati. Perfetto. Ecco che entrano anche le nostre ragazze. Accidenti, ma qui non c'è nessuno. Il barista che fine ha fatto? Vedrai che presto arriverà qualcuno. È arrivato questo? No. Non preoccupatevi, ci penso io a fare qualcosa. Ecco, prendete. Lillibet se ne è presa addirittura due. Mamma mia. C'è che fa un po' freddo qui, eh? Dai, ci divertiamo lo stesso. Perché non mettiamo un po' di musica? Ragazzi, balliamo, dai. Dunque, Gabri è perfezionista? Ma sì. Vediamo che Nicolas si scatena. Vai ragazzi, scatenatevi. Oh, guardate che forza che sono. Chi più, chi meno, ma... Proprio yuhu. Eh, bravissimo Alex, eh? Gabri, ormai il nostro amore mi sembra convalidato. Ma se ci fidanziamo... Sì, sì. È fantastico. E vai, si sono fidanzati pure loro. Mi è venuta un'idea. Sarà la svolta della mia vita. Già. Tesoro, stavo pensando una cosa. Dimmi pure. Che ne dici di andare a vivere a Monte Komorepi, io e te? Ti va di venire a casa mia? Staremo benissimo. Ci sarà sempre il sole. Ma dici sul serio? Non sarà un po' troppo affrettato? Ma no, io abito da solo. La mia casa è così vuota. Sì, Lilibet gradisce la musica da Ranch. Quindi... Per me va bene. Poi sono una persona pulita, sai, non sono disordinato. Ma lì è sempre brutto tempo. Io non so se è il caso. E poi la mia famiglia. Non ti preoccupare, sanno che ci amiamo. Va bene, mi hai convinta. Pescheremo insieme. Faremo tante belle cose. Ne sono certa. Ma qui dentro fa un freddo. Tu hai davvero dei poteri magici. Mi hai davvero incantata. Immagino sarà un lungo viaggio. E anche costoso. Ci penserò io, non preoccuparti. Tu non devi proprio preoccuparti di niente. Renderò la tua vita colorata. Va bene. Adesso scusami. Vado a farmi bella per te. Torno subito. Mi piacerebbe avere anche dei bambini un giorno, sai. Sarò il papà più bravo nel mondo, vedrai. Ne sono certa. Sei davvero l'uomo della mia vita. Ti amo da impazzire. Sorellina è una notizia bomba. Alex mi ha chiesto di andare a vivere con lui. E anche di fare dei bambini. Accidenti, io sono così pigra. Chissà se sarò all'altezza. Che dici? Che dici? Io intanto dico che fa freddo. Dai, voglio sapere che cosa ne pensi. Beh, io veramente... Allora dai, dimmi. Beh, io veramente non saprei. Mi sembra un po' presto. Ma se questo è quello che vi fa felice, allora va bene. Penso che andrà bene anche per mamma e papà. Dai, la mamma sarà contenta. Sì, lo penso anch'io. E sarà contenta anche di diventare nonna. Ora devo andare, vorrei farmi il trucco. Ah, un bambino. Ma senti, tu che ne pensi di questo Alex? Ma mi sembra ok. Sì, beh, è forte, è simpatico, ma... Non so, c'è qualcosa che non mi convince. Dai, forse perché non è dolce come me. Ma sicuramente. Però sembra voler bene mia sorella. E poi mi sembra un tipo anche molto ordinato. Sì, dai, vedrai che... Sarà una bella storia la loro. Ok, se lo dici tu... E poi, se va a vivere a Monte Kumorebi, potrete sempre sentirvi per telefono, ti pare? Sì, ma non è lo stesso. Accidenti. Mi dispiace vedere Gabri così preoccupata per la sorella. Eppure non ce n'è motivo. Insomma, Alex è un ragazzo innamorato. Non è proprio normale che corra così. Ma se ama così tanto Lilibet. Forse è il caso di tentare. Anche se onestamente questa fretta mi mette molta ansia. Sì, lui è innamorato di Lilibet, si vede, insomma. Però è innaturale. Non lo so. Io la penso un po' come Gabri. Sì, la penso davvero come Gabri. È tutto tanto bello da non sembrare vero che forse è qualcosa che non c'è. A questo punto io vi consiglio di guardare le schermate finali dove potrete vedere la puntata precedente e altri contenuti che porto sul canale. Vi mando un bacio e ci vediamo presto alla prossima puntata. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Grazie a tutti.